Buongiorno a tutti. Io innanzitutto vi ringrazio per questo invito, per me è un onore. Ho sempre avuto una grandissima stima dell'Accademia di Vincei e di tutti i suoi componenti. Ho avuto la fortuna di ricevere un premio anche nel passato e quindi per me è quasi un po' emozionante poter fare questa conferenza oggi. Ho deciso di trattare un tema che è un po' innovativo rispetto a quella che è la ricerca del cancro, che è quello degli aspetti metabolici nel trattamento dei tumori, perché è una linea di ricerca che abbiamo aperto in istituto, che io ho promosso in prima persona e quindi pensavo fosse una cosa interessante di cui rendervi partecipi, perché credo che in un futuro prossimo avrà degli sviluppi piuttosto importanti. Aspettate che cerco di recuperare le mie ripositive. Io non ho disclosure per questo tipo di presentazione, ma vorrei solamente dire due cose importanti, e cioè che quando si parla di metabolismo spesso si considera il concetto di stile di vita e di benessere, di prevenzione di tanti tipi di patologie, e questo è sicuramente vero, ma noi oggi affronteremo il problema del metabolismo come un bersaglio per la cura dei tumori. Quindi parleremo di pazienti e di modelli di tumore, quindi pazienti malati di tumore che devono ricevere delle cure. La seconda cosa importante che mi sento di dire è che io da ricercatore sono stato sempre una persona molto curiosa e ho sempre creduto nel gioco di squadra e soprattutto nello sviluppo delle figure dei giovani che, come ai miei tempi, ho rappresentato forse un po' un elemento di rottura in alcuni momenti della mia carriera, sono sicuramente ogni tanto un po' ingombranti nel loro entusiasmo, ma in questo momento sicuramente puntare su di loro è estremamente importante perché il cambiamento della comunicazione, dell'informazione, l'avvento del mondo digitale ha un po' bypassato almeno la mia generazione e quindi introdurre nell'ambiente di ricerca persone giovani che hanno questo tipo di capacità è fondamentale perché la quantità di informazioni che sono adesso disponibili sono tali che se non ci si distreggia bene con la loro gestione diventa difficile e anche lo sviluppo e la velocità dello sviluppo della ricerca è tale per cui bisogna cambiare completamente l'approccio. Io ho sempre avuto un approccio legato al desiderio di trasferire esperienze da una patologia all'altra che è un po' il discorso dell'oncologia medica, poi abbiamo seguito il processo del riconoscimento dei target terapeutici e adesso dell'immunoterapia cercando dei versagli molecolari da una parte, dall'altra dei meccanismi specifici, ma indubbiamente tutto questo ha un'evoluzione così rapida e così bisogna avere proprio un'attitudine per questo. Lo dico perché molti dei lavori che vi presenterò sono stati fatti anzitutti in collaborazione con uno specializzando che ha iniziato a lavorare su questo il primo anno di specialità e adesso sta facendo veramente un nome che si chiama Claudio Vernieri e io sono molto orgoglioso di questo perché io credo che proprio far crescere i giovani è un po' il dovere di chi come me è direttore di una scuola di specialità ed è arrivato in università sicuramente tardi per tante ragioni diverse, io sono ordinario da solo da 5 anni e non ho fatto una carriera universitaria, sono passato da una posizione ospedaliera a una posizione universitaria perché c'era la necessità di implementare un po' l'organico dell'oncologia medica a Milano e abbiamo fatto delle scelte, l'università ha fatto delle scelte coraggiosi, io sono stata una di queste spero di poterla, di averla onorata adeguatamente. Dopo questa breve premessa vorrei solamente partire da questo presupposto, allora noi sappiamo da questo vecchio lavoro di Weinberg che chiaramente il processo di crescita neoplastica ha determinati passaggi, tutti questi passaggi sono vincolati a svincolare la cellula tumorale da quello che è il comportamento di una cellula normale la cellula tumorale è in grado di crescere in condizioni se vogliamo a volte più estreme adesso vedremo anche se questo è proprio vero e sicuramente è guidata spesso da dei geni che si sono alterati, che guidano dei processi, quindi si chiamano geni che guidano la crescita tumorale che spesso noi usiamo come bersagli molecolari, come bersagli per le nuove terapie dei tumori questo è stato veramente l'oggetto della ricerca degli ultimi 15 anni se vogliamo però indubbiamente ci siamo resi conto che i geni non possono essere considerati indipendentemente da quelli che sono i processi metabolici che portano alla replicazione cellulare e alla sintesi cioè una cellula tumorale ha bisogno di energia per crescere ma ha anche bisogno di sostanzialmente mattoni di elementi come i lipidi, le proteine per costruire le cellule che poi continueranno a proliferare per la sua proliferazione e questo aspetto è cruciale perché su questo secondo aspetto probabilmente possiamo lavorare molto bene e forse aprire veramente nuovi sviluppi importanti che vanno a imbricarsi con quelli che sono invece le ricette che in questo momento sono svolte principalmente dall'industria farmaceutica. Il primo che ha notato qualcosa in questo senso e in quanto fosse importante l'app regolazione da parte delle cellule tumorali nell'uptake del glucosio era Wurmburg il quale aveva un disdicevole prerogativa di essere un nazista convinto e nonostante abbia vinto il premio Nobel è sempre rimasto convinto nella sua convinzione politica fino alla fine e per questo evidentemente i dati che lui ha prodotto non sono stati accettati volentieri nel mondo scientifico e secondo me questo è un errore ma dall'altra parte è molto comprensibile fino a recentemente. Nel frattempo Walson e Crick hanno sviluppato la scoperta della struttura di DNA e da lì tutta l'attivazione del processo dello studio del genoma umano ma voi potete vedere come recentemente considerate che Wurmburg ha vinto il premio Nobel nel 31 recentemente c'è stata una grossa attenzione per quelli che erano i dati che lui aveva pubblicato e sul suo modello ci sono sviluppate un sacco di ricerche decine di migliaia di articoli per darci un'idea questa è un'immagine di una PET la PET è un esame radiologico anzi un esame di medicina nucleare in cui anziché usare la morfologia questa è la morfologia di un'attacca si vede nei due polmoni, il cuore questo è il fegato e in genere in un'attacca si vede il tumore come una massa o una forma o qualcosa che ha una densità leggermente diversa dal tessuto normale e se ne studia la morfologia e l'estensione morfologica la PET ha la prerogativa di essere un esame funzionale ed è basato sull'uptake da parte delle cellule tumorali in rapida crescita di un composto di glucosio associato a un isotopo radioattivo il fluoride ososoducosio il quale ovviamente poi lascia un'impressione fa vedere una captazione metabolica legata alla captazione metabolica del fluoride ososoducosio e si fa vedere questi accumuli da qui si estrapola che ovviamente la cellula tumorale ha bisogno di zucchero nella sua crescita in realtà la cellula tumorale ha tanti altri processi metabolici che sono diversi da quelli della cellula normale e io li abbiamo riassunti su questo aspetto che sono sostanzialmente può aumentare l'espressione di enzimi che accelerano dei processi metabolici o catabolici o di sintesi può aumentare l'uptake di metaboliti specifici per raggiungere il proprio scopo può addirittura invertire il meccanismo di attivazione del ciclo di Krebs se questo è nel suo interesse dal punto di vista metabolico in questa diapositiva abbiamo fatto una breve sintesi di quelli che sono gli aspetti voi vedete che sostanzialmente questa può rappresentare una cellula questa è la parte di membrana da cui possono essere catturati, metaboliti possono arrivare segnali di crescita attraverso fattori di crescita questi in genere possono essere interazioni come farmaci come ci sono citati la metformina tutto questo può arrivare direttamente a livello del mitocondrio e attivare un processo di produzione energetica ma nello stesso tempo si possono sempre attraverso questo tipo di passaggi anche attivare delle patue di produzione dei nucleotidi degli aminoacidi, degli acidi grassi del colesterolo e della sintesi proteica che sono quegli elementi di cui vi dicevo così importanti perché la cellula con l'energia da sola non va da nessuna parte se non ha poi i mattoni per costruire le altre cellule le vie metaboliche principali che sono studiate sono ovviamente la glicolisi il metabolismo degli acidi, gli aminoacidi e il metabolismo dei lipidi però non bisogna dimenticarsi e questa è una cosa che vi stresserò più volte in questa presentazione che in realtà non è che questo sia un passaggio svincolato dalla presenza di alterazioni molecolari o genetiche del tumore per esempio ci sono geni come K-RAS che hanno un'importante attività nel stimolare la trascrizione di glicolitica MIC attiva l'espressione dei lattati R2 che è un recettore di struttimembrana regolato da questo gene che se viene amplificato è molto importante nella patogenesi e nella cura di un tumore della mammella che ha la caratteristica di avere l'amplificazione di R2 è un'espressione che si è in equilibrio con la sintesi degli acidi grassi nel senso che la regolazione da parte di R2 aumenta la sintesi di acidi grassi che a loro volta aumentano la regolazione di R2 quindi ci sono un sacco di processi che vanno proprio a intrinsecarsi con quelli che sono gli aspetti molecolari della malattia ed è proprio il bello di questo tipo di ricerca perché è una ricerca vincolata infatti in questa diapositiva abbiamo cercato di spiegare che l'aspetto metabolico che può essere legato a cercare di fare una deprivazione calorica o una deprivazione di certe sostanze o un'interazione con l'assorbimento dei lipidi eccetera con farmaci o con delle forme di restrizione calorica deve comunque tener conto che poi questa applicazione è vincolata al tipo di malattia e anche il tipo di malattia condiziona i processi metabolici che poi possono giovarsi o essere svantaggiati da delle manipolazioni di tipo dietetico o metabolico è molto interessante dire da dove siamo partiti perché come vi ho detto io sono un clinico quindi tutta la parte ho fatto molta preclinica da giovane quando ero all'università e nei primi anni del mio lavoro però io sono sostanzialmente un clinico e nella mia divisione quello che ho cercato di sviluppare è l'attenzione dei ragazzi sui problemi clinici che vedono quotidianamente in ambulatorio sulle osservazioni che vengono fatte rivedendo le pubblicazioni scientifiche e da lì poi sviluppare una ricerca che va back to the bench quindi mentre esiste tutta una linea di ricerca molto importante che è quella che parte dalla ricerca di base e arriva a creare dei presupposti per poi sviluppare una ricerca clinica noi abitualmente cerchiamo di partire da quelli che sono i quesiti risolti nella clinica per stimolare poi un ritorno alla ricerca di base per dare delle risposte in particolare tutto questo lavoro è nato pochi anni fa perché è nato nel 2014 quando rivedendo una pubblicazione che stavamo scrivendo su tumori neuroendocrini che erano trattati con analoghi della somatostatina o con Everolimus pubblicazione non particolarmente importante non dava dei dati clinici particolarmente rilevanti ho chiesto alla dottoressa che stava analizzando i dati di questo studio di splittarmi le popolazioni in diabetici e non diabetici perché quando stavano sui tumori del pancreas anche se di natura neuroendocrina quindi con una pronomi decisamente migliore da quelli epiteliali si poteva ipotizzare che il diabete potesse se c'era una discussione aperta e ancora non risolta almeno per i tumori del pancreas e epiteliali che il diabete potesse influenzare la prognosi di questa patologia e facendo questo splitt si è visto che i pazienti diabetici che sono quelli in rosso hanno una mediana di progressione di tempo alla progressione della malattia dal momento in cui è iniziata la cura quindi noi iniziamo il trattamento e misuriamo il momento in cui la malattia sfugge alla cura e questo si chiama progression free survival cioè sopravvivenza libera da progressione di malattie che è il doppio dei pazienti non diabetici e questo ci ha molto incuriosito allora gli ho detto ma cerchiamo di capire perché i diabetici non sono tutti uguali e quindi abbiamo splittato di nuovo tra diabetici che ricevevano metformina diabetici che non ricevevano ovviamente l'abbiamo fatto di più abbiamo guardato l'insulina la metformina quelli che non prendevano niente ma nella sintesi abbiamo notato che c'era una grossa differenza tra pazienti che ricevevano metformina da pazienti che non ricevevano metformina e di nuovo la progressione libera da malattia era di 44 mesi per i diabetici che quindi stiamo parlando di anni parecchi anni per i pazienti che ricevevano diabetici che ricevevano metformina rispetto alla metà per i pazienti diabetici ma che non ricevevano metformina e ancora meno per gli altri e questo ci ha fatto capire che probabilmente dovevamo interpretare meglio qual era il ruolo della metformina che è molto discusso nel trattamento dei tumori ci sono tante pubblicazioni e molto controverse in questo tipo di patologia contestualmente c'è stato un incontro ho cominciato a rivalutare con attenzione alla luce di questi dati qualcosa che prima avevo considerato un po' poco interessante che era questi esperimenti che si facevano sul digiuno così un po' poco organici un po' legati all'edonismo di nutrizionisti cioè questa informazione parascientifica è andato a analizzare i dati molto più scientifici di Walter Longo che lavorando su la longevità aveva prodotto dei dati sul fatto che il digiuno avesse in qualche modo un impatto importante sulla crescita delle cellule normali sulla preservazione da processi infiammatori e finalmente è arrivato a produrre qualche dato nei modelli preclinici murini o di linee cellulari sul fatto che la combinazione di digiuno e chemioterapia potesse essere efficace e l'idea era che mentre le cellule tumorali normali sotto stress tendenzialmente si autoproteggono le cellule tumorali nel momento in cui vengono proposte e messi sotto uno stress metabolico di digiuno di starvation tendenzialmente hanno una maggiore facilità di andare incontro a processi di aportose e morte se sono in condizione di poterlo fare questa diapositiva che sembra complicata ve la semplifico e vuol dire semplicemente che in tre modelli di topo che hanno dei tumori murini la combinazione di un digiuno qui stiamo parlando di digiuno e quindi solo acqua al topo per poche ore a cicli associato a un trattamento chemioterapico che è questa linea rossa non controlla la crescita questa è la crescita del tumore in maniera molto significativa rispetto molto migliore rispetto al chemioterapico da solo al digiuno da solo e ovviamente a non fare niente questo corrisponde a dei periodi di dimagrimento del topo il topo in genere quando perde peso viene definito insofferenza ma come vedete questa è una sofferenza transitoria perché non appena terminato il periodo di digiuno il topo recuperava il suo peso e quindi era considerato tollerabile e in questo ultimo modello che è un modello leggermente diverso perché è un modello di topo in cui nudo cioè senza patrimonio immunitario a cui sono state iniettate invece delle cellule di tumore umano si vede che l'effetto è lo stesso ma non si vede la curva con la chemioterapia perché poi dopo pochi giorni la maggioranza dei topi trattati con chemioterapia morivano per effetti della chemioterapia e quindi questa è una prova diciamo un po' indiretta che il trattamento di digiuno associato al trattamento chemioterapico poteva essere protettivo sugli effetti collaterali del trattamento chemioterapico su questo ci sono state una serie di pubblicazioni su piccolissime casistiche che hanno prodotto dati come questo che sostanzialmente facevano vedere che in effetti associare una forma di digiuno al trattamento chemioterapico poteva ridurre alcuni effetti collaterali e quindi noi abbiamo pensato come possiamo trasformare questo modello perché mentre non è difficile mettere a digiuno un topo che tendenzialmente anche se si lamenta viene un po' ignorato dai ricercatori proporre un digiuno severo a una persona è sicuramente sia dal punto di vista etico che dal punto di vista pratico estremamente difficile e quindi abbiamo notato che per esempio Walter Long aveva proposto degli esperimenti in cui il digiuno era mimato da una dieta molto molto restrittiva dal punto di vista calorico che poteva avere un massimo di 1000 calorie al giorno ma anche molto meno in genere un dato complessivo tra le 1000 e le 2500 calorie su 3-5 giorni a seconda dei modelli e che quindi poteva essere in qualche modo forse meglio tollerato per tutto visto che nei volontari sani questa dieta ripetuta ogni 3-4 settimane era possibile che aveva degli effetti metabolici significativi perché riduceva i livelli di glicemia di insulinemia di insulin light growth factor e parametri infiammatori molto significativamente nei volontari sani inoltre c'era anche una riduzione del peso delle persone che si stabiliva intorno a un 15% e poi si manteneva stabile e che anche questo tipo di dieta no qui è successo qualcosa che non volevo ecco che anche questo tipo di dieta otteneva lo stesso risultato che abbiamo visto prima cioè questi sono gli esperimenti fatti nel topo con la dieta in cui di nuovo si vede che la dieta più il trattamento chemoterapico ottiene una riduzione della crescita della malattia significativa rispetto al trattamento chemoterapico in diversi tipi di linee cellulari allora il problema nostro era però stiamo parlando di volontari di topi di linee cellulari ma il paziente è oncologico voi dovete immaginarci che noi che abbiamo dedicato la vita a curare questo tipo di malattie a queste persone ci rendiamo conto della loro fragilità della difficoltà di fare delle proposte di sacrifici ulteriori io nella mia clinica spesso mi trovo a dover discutere su malati che sono in condizioni molto gravi se è il caso di ottemperare dei rigori dal punto di vista dietetico o formale spesso sono molto più permissivo perché mi rendo conto che insomma è molto difficile imporre delle regole restrittive se non c'è chiaramente un outcome che può essere vantaggioso per i pazienti in una persona che magari ha poche settimane o pochi mesi di vita e poi che potrebbe essere molto dannoso per loro allora noi avevamo due possibilità una era quella di seguire l'esperienza di Longo che aveva già commercializzato una linea di prodotti che standardizzano una forma di restrizione calorica con dei cibi che sono stati studiati apposta in maniera molto approfondita che ha richiesto diversi anni di lavoro e che quindi semplificava un po' il processo di standardizzazione dell'approccio perché uno comprava una scatola e sapeva esattamente quante calorie come erano distribuite qual era la composizione tutte queste cose qua oppure seguire qualcosa che può più della mia natura voi mi avete visto io sono considerato dagli amici e anche dal professor Pagliocurso un buon vivant mi piace cucinare bene penso che la palitabilità delle cose è importante e quindi ho diciamo cercato di imprintare il mio ricercatore Vernieri che invece lui era in quel momento al primo anno di specialità di oncologia medica ma alle spalle aveva già fatto un PhD quindi nasceva proprio come ricercatore che tutto sommato anche la qualità dei cibi delle cose la palitabilità delle cose può avere un'importanza nella tolerabilità quindi abbiamo scelto una strada un pochino più complicata che quella di dare suggerimenti dietetici basandoci su dei prodotti naturali per una dieta che era molto più restrittiva di quella originaria di Longo quindi noi proponevamo circa 1800 calorie in 5 giorni basandoci su un mix di sostanze che erano vegetali soprattutto verdura ma anche integrata con un cucchiaio di olio delle mandorle c'è delle nocciole non era esclusa la possibilità di mangiare un po' di pane queste cose qua l'obiettivo di questo studio che è stato il primo è stato quello ovvio per un clinico oncologo cioè cercare di capire se era fattibile che una dieta di questo tipo fosse proposta ai pazienti e i pazienti l'avrebbero tollerata e perseguita perché c'erano segnali da esperienze che venivano fatte in altri paesi in cui gli studi alcuni studi che erano già iniziati erano stati interrotti proprio per la mancanza di compliance da parte dei pazienti rispetto alla dieta noi abbiamo fatto un lavoro enorme cercando Claudio Vernieri è stato on call telefonicamente per fortuna è insonne per cui questo ha molto aiutato adesso non devo dire che bisogna selezionare la propria staff su persone di questo tipo però questo ha aiutato questo tipo di studio per cui ha sempre risposto ai pazienti un contatto costante per via mail o sms insomma una grande accudimento ma i nostri obiettivi erano proprio quelli di vedere se questa cosa era perseguibile fattibile se i pazienti avrebbero perso peso avrebbero mantenuto un peso un po' ridotto e che tipo di effetti ci sarebbero stati a livello delle modificazioni metaboliche sul plasma del paziente ma anche del sistema immunitario perché già allora c'erano i primi segnali di quello che poteva essere importante di quanto poteva essere importante il microbiota nella gestione del sistema immunitario quindi quante che non c'entra con questo tipo di approccio però ci faceva pensare che il sistema immunitario può essere condizionato sicuramente da manipolazioni metaboliche quindi abbiamo voluto prendere in considerazione i criteri erano quelli di pazienti in buone condizioni generali nessuna discriminazione per il tipo di tumore sicuramente non includevamo pazienti troppo magri e con patologie d'organo soprattutto a carico di fegato rene e cuore ovviamente se il paziente aveva una malattia troppo rapidamente evolutiva una rapida perdita di peso aveva era già ipoglicemico o aveva un diabete insulino dipendente veniva escluso da questo studio abbiamo reclutato più di 100 pazienti con come vedete diverse patologie ogni sorta di patologia e ogni sorta di trattamento ma non era quello l'obiettivo l'obiettivo non era vedere l'efficacia era vedere la tollerabilità e in questa diapositiva un po' affollata la cosa importante che vedete questi sono gli effetti colistrali considerati rilevanti in qualsiasi studio clinico e vedete che l'incidenza di grado 4 è 1% e di grado 3 è 12% quindi piuttosto bassa dove questo 12 è composto prevalentemente da fatica affaticamento e episodi di ipoglicemia che si risolvevano con una somministrazione di zuccheri quindi molto ben gestibili il 75% più di 75% dei pazienti erano stati in grado di completare il programma di trattamento che dovevano ricevere che ovviamente era vincolato anche da un certo numero di cicli e in funzione anche della risposta del trattamento alla malattia e del comportamento della malattia però quindi più di 3 quarti di pazienti sono stati in grado di completare questo non hanno voluto sospendere e alcuni sono stati fondamentali abbiamo avuto pazienti che hanno cominciato ad andare in montagna che facevano la dieta e trekking senza nessun problema ci siamo accorti che c'era veramente un mondo da scoprire e quindi questa è stata la prima risposta ma quello che è stato veramente interessante che voleva essere un po' la mia scommessa era che la dieta questo tipo di restrizione calorica si comportasse come un farmaco perché io non stavo considerando un episodio di stile di vita voleva essere un'applicazione di un trattamento medico e farmacologico quindi doveva avere questo tipo di comportamento e queste poche diapositive ve lo dimostreranno il peso prima e dopo ogni ciclo vedete che calava ma poi c'era un certo equilibrio quindi dopo un primo calo iniziale più importante con i primi due cicli il paziente si stabilizzava su un certo tipo di peso questo è bellissimo vedete i valori di glicemia che scendono dopo la dieta ogni ciclo ma a prima del ciclo successivo sono tornati esattamente ai livelli di prima quindi l'effetto è proprio vincolato alla somministrazione del farmaco che in questo caso è una restrizione calorica stessa cosa per i valori di insulinemia stessa cosa per i valori di insulin light growth factor e quindi questo ci ha confermato un dato molto importante inoltre nel frattempo avevamo attivato siamo un po' esagitati quindi a me piace fare con questi dati preliminari avevamo attivato un altro progetto che è stato finanziato da un finanziamento internazionale secondo un protocollo del ministero della salute in associazione con l'AIRC che si chiama Transcan e in questo protocollo noi avevamo cominciato ad analizzare l'effetto della restrizione calorica in pazienti che dovevano sottoporsi all'intervento chirurgico per un tumore della mammella o per il melanoma senza nessun trattamento medico insieme quindi questi erano solo pazienti che facevano uno o due cicli di restrizione calorica e poi andavano all'intervento e quello che abbiamo notato per esempio in questi due pazienti che c'era all'interno della malattia un sostanziale cambiamento della presenza dei linfociti T attivanti delle cellule CD8 che quindi ci faceva pensare che ci fosse un cambiamento e una ripopolazione della malattia con quei linfociti che dovrebbero contribuire ad aggredire la cellula tumorale quindi questo è stato un segnale molto interessante che ci ha convinto che quello che stavamo facendo poteva avere una conseguenza importante il meccanismo per cui questo tipo di processo poteva avvenire l'abbiamo sintetizzato qua e cioè una restrizione calorica da un certo punto di vista può stimolare le cellule T e le cellule NK a proliferare e a migrare contento la riduzione della glicolisi intratumorale può ridurre la produzione a livello di cellule tumorale di fattori di crescita che richiamano le cellule mieloidi che invece hanno un effetto immunosoppressivo e quindi c'è un condizionamento nella produzione di queste cellule che quindi tendenzialmente lasciano più spazio a quelle fettrici questa è un po' la sintesi e contestualmente abbiamo visto che combinando il trattamento insieme ai chemoterapici i pazienti per esempio che hanno tumori del colon che non sono particolarmente facili da curare si vedeva un netto miglioramento della malattia sia dal punto di vista morfologico con la TAC sia dal punto di vista metabolico con la PET vedete questi passaggi nell'arco del tempo e qui sono altre immagini sempre di pazienti di questo tipo e quindi siamo stati un po' convinti da questa prima sperimentazione che oltre al fatto che fosse tollerabile fosse un approccio che andava approfondito le conclusioni sono quelle che vedete cioè che la dieta era tollerabile che i metaboliti che ci aspettavamo si dovessero ridurre si riducevano che c'era questa osservazione sulla riduzione della popolazione di cellule immunosoppressive molto interessanti e che quindi era assolutamente importante che andassimo avanti con prodetti di questo tipo poi ci siamo detti quali sono i giocatori che possono aiutare una restrizione calorica a ottenere un effetto antitumorale e abbiamo visto su modelli di linee cellulari che ci sono esperimenti fatti con digiuno dietro di digiuno su tumori ormonosensivi i modelli preclinici di tumori monosensibili vedete che sostanzialmente il 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 trattamento in presenza di dieta ottiene risultati sulla malattia molto migliori che trattamento senza dieta e questo anche con altre manipolazioni ormonali quindi questo è un campo che sicuramente può avere importanza poi chi lavora con noi in laboratorio ha voluto andare un pochino più a fondo su aspetti ancora più complessi e andare a vedere se questo effetto poteva essere inibito da qualche cosa e si è visto che nei modelli di tumore della mammella effettivamente vedete questo è il controllo questo è il trattamento con la restrizione calorica questo è il trattamento con farmaci che hanno la capacità di bloccare il tumore della mammella vedete che questo è il tamoxifene il fulverstran si ottengono risultati abbastanza modesti ma se si associa il tamoxifene o fulverstran alla restrizione calorica si ottengono risultati molto buoni ma nel momento in cui si somministra per esempio insulina nelle culture si vede che questo effetto viene completamente annullato quindi l'IGF1 non ha questo effetto ma l'insulina si quindi l'insulina può bloccare questa azione della restrizione calorica e in questo altro modello sempre interessante in tumori del colon che hanno una mutazione di questo gene che si chiama K-RAS la vitamina C alte dosi ha un grandissimo effetto di morte cellulare vedete questo qui è il numero di cellule che muoiono allora se si associa il controllo con la vitamina C non si ottiene granché la starvation con la vitamina C ottiene dei risultati e clattanti ma solo nei tumori che hanno questo tipo di mutazione e in diversi tipi di tumori colon, pancreas, polmoni mentre invece nei tumori che non hanno quel tipo di mutazione non succede niente quindi la starvation e la vitamina C funziona non solo se c'è la mutazione di K-RAS questo è per farvi capire quanto dobbiamo continuare a rimanere collegati allo studio del genoma e del tumore e anche in questo caso l'insulina non ha nessun effetto invece di inibizione ma ce l'ha l'olotransferrina quindi ci sono situazioni cliniche che in clinica potrebbero essere completamente diverse io vi dico questo perché evidentemente i modelli preclinici hanno lo dico per chi di voi non fa il ricercatore e lo dico anche un po' per me perché io sono un clinico e un ricercatore clinico ho lasciato il laboratorio da circa 30 anni mantengo leggo però tendenzialmente non ho la stessa dimestichezza ma sostanzialmente nei modelli uno può fare quello che vuole perché abbiamo la capacità di scegliere i tumori che vogliamo quelle caratteristiche che vogliono nelle condizioni di crescita che vogliamo nell'uomo nell'organismo la cellula vive brada in una prateria sconfinata dove può cercarsi quello che vuole quindi il fatto di sapere che ci possono essere sostanze che vanno a inibire o accentuare determinati fenomeni è importante e quindi quello si può capire meglio dei modelli preclinici ma poi trasformare l'informazione nella pratica è estremamente complesso perché l'organismo è estremamente complesso allora ci siamo detti quali sono i metaboliti importanti ritorniamo al nostro lavoro dei Pnet e andando a rivedere i Pnet questa è la diapositiva che vi ho fatto vedere quindi diabetici verso non diabetici i diabetici che prendono menformina hanno una prognosi molto migliore qui a questo punto ci siamo chiesti ma sarà proprio questo o sarà il tipo legato al tipo di trattamento questi sono i tipi di trattamento e vedete che l'effetto del trattamento è esattamente uniforme quindi è sempre in favore dei diabetici quindi il trattamento non influenza l'outcome di questa sperimentazione ma allora cos'è che l'influenza? allora siamo andati a vedere una cosa completamente diversa non solamente i livelli di glicemia ma quello di per esempio trigliceridi e quello di cui ci siamo accorti è che complessivamente queste sono tutta la popolazione questi sono i pazienti che non ricevevano metformina e si vede che chi ha livello di trigliceridi alti sostanzialmente ha una una prognosi questi sono chi ha livello di trigliceridi alti ha una prognosi peggiore ma chi ha livello di trigliceridi alti o chi ha un aumento del valore di trigliceridi superiore a 100 mg decilitro quindi non necessariamente alti all'inizio ma che aumentano durante il trattamento ha una prognosi decisamente peggiore di chi non ha un aumento di trigliceridi quindi l'aumento e questo vale sia per i pazienti che ricevevano che erano sotto metformina che quelli che cioè la popolazione in generale che in quelli che non ricevevano metformina e quindi questo ci fa pensare che probabilmente la metformina ha un'influenza su questo i dati sul colesterolo sono meno forti ma sono simili cioè statisticamente vanno nella stessa direzione e quindi abbiamo pensato che forse noi ci concentravamo sugli zuccheri ma in realtà i grassi hanno un'importanza grande nell'interazione e forse la metformina ha un meccanismo che può essere sinergizzante con la terapia in questi pazienti proprio perché oltre a ridurre il livello di zucchero riduce anche il livello di celidi e di colesterolo e quindi questo potrebbe essere una delle spiegazioni dell'osservazione che noi abbiamo fatto in questo tumore perché se voi andate a vedere la letteratura la metformina è stata studiata in tanti altri tipi di tumore e non abbiamo avuto dati simili ma gli studi non erano così articolati quindi questa è stata la conclusione e da qui siamo andati avanti nel disegnare uno studio che è in corso fa un po' fatica a reclutare ma ce la faremo a concludere entro quest'anno sempre i pazienti che hanno tumore neuroendocrine del pancreas in cui diamo la metformina in convinzione alla terapia anche a quelli che non sono diabetici cioè a tutti i pazienti i pazienti che non sono diabetici quindi per vedere l'impatto di questo tipo di trattamento indipendentemente dal fatto che il paziente non sia diabetici e questa è la parte più clinica adesso da lì si è stata chiaramente la curiosità è andata avanti e abbiamo cercato di capire altre cose le altre cose sono quali sono le possibili combinazioni che noi possiamo fare con un approccio di questo tipo cioè di restrizione calorica vabbè possiamo andare a interagire con farmaci che vanno a lo stesso avere un target metabolico e la metformina è quello più facile da utilizzare in questo momento ma sicuramente anche interagire con dei chemioterapici e l'altra domanda che ci siamo fatti ci poteva essere un rischio per i pazienti che vanno incontro alla dieta di sviluppare qualche cosa di peggiorativo della loro malattia perché se voi ci pensate come vi ho detto mentre il modello in vivo in vitro è un modello che possiamo costruire come vogliamo se la cellula è messa a digiuno non c'è modo di sfuggire in vivo cioè nell'uomo la cellula tumorale non è proprio così così mansueta è capace di attraversare vasi di superare barriere non se ne frega dei limiti che vengono mantenuti dalle cellule normali della limitazione d'organo quindi un tumore che nasce per esempio un piccolo tumore che nasce nel colon ha la capacità di attraversare una barriera data da una mucosa da una barriera data da un vaso viaggiare nel nostro organismo riattraversare il vaso entrare dentro un tessuto che magari è quello polmonare o epatico e quindi ha delle grandi capacità di movimento che ovviamente sotto starvation potrebbero essere accentuate quindi ci potrebbe essere il rischio che mettendo in sofferenza il malato la cellula che inizialmente approfitta del malato quindi ricoprerà quello di cui ha bisogno dal microambiente di tessuto normale eccetera che la circonda ma poi una volta che quest'ambiente non è più proficiente per lei e diventa ostile potrebbe muoversi e andare a cercare altri ambienti e dare un fin di metartesi questa ipotesi chiaramente ci ha favorito nell'idea che questo tipo di approccio evidentemente da solo non è detto che vada da nessuna parte ma la combinazione con chemoterapici può aiutarci perché la cellula che si muove che replica e che fa questo tipo di passaggio potrebbe essere più suscettibile di una sensibilità ai trattamenti chemoterapici o altri tipi di trattamento quindi uno stress ossidativo sostanzialmente e per questo abbiamo disegnato uno studio che è iniziato pochi giorni fa veramente un mese fa che si chiama Breakfast e questo studio cosa voleva fare vuole mettere insieme tutte le informazioni che noi abbiamo informazioni prodotte a livello di ricerca di laboratorio da IFOM e IEO sul ruolo della metformina nel potenziare l'effetto di alcuni chemoterapici i dati della dieta della restazione calorica che avevamo sviluppato dai nostri pazienti e l'ipotesi di capire se dovevamo fare una sola manipolazione metabolica o due nei nostri pazienti e lo studio prevede sostanzialmente in pazienti che devono fare una chemoterapia preoperatoria per un tumore della mammella che è molto aggressivo e ha una prognosi peggiore degli altri che si chiama Triple Negative cioè un tumore che non è dipendente né dalla sua crescita né dalle espressioni di recettori per gli estrogeni o progesterone perché non li ha né da R2 perché non lo esprime e quindi sono cellule molto più indifferenziate apparentemente che se trattati con chemoterapia prima dell'intervento chirurgico e dal trattamento ottengono una rimissione completa hanno una prognosi buona ma se non si ottiene un buon risultato con la chemio preparatoria possono avere una prognosi assolutamente molto 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 sfavorevole e quindi abbiamo provato abbiamo disegnato questo studio questo studio prevede l'associazione di chemio e restrizione calorica o chemio e restrizione calorica e nexformina proprio per vedere se in questo modo possiamo come vi ho fatto vedere prima mettere insieme in maniera pragmatica e pratica tutte le informazioni che abbiamo qui adesso per avere un vantaggio per i nostri malati ovviamente lo studio ha tutta una serie di di studi ancillari legati appunto a metabolismo ed è uno studio ongoing abbiamo reclutato già una decina di malati abbiamo cominciato già a vedere delle risposte però prima di poter dire effettivamente come vanno le cose bisognerà avere dei dati molto più consistenti è solamente una bella scommessa però poi siamo andati a vedere quanto era importante lo zucchero nel sangue e anche qui abbiamo deciso per coerenza in questo momento ci siamo un po' concentrati sul tumore della mammella perché vedete il tumore della mammella a parte R2 non è una malattia che al momento ha tanti target da punto di vista molecolare cioè non abbiamo target agent che lavorano bene nel tumore della mammella e anche l'immunoterapia in questo momento non ci sta dando grandi risultati per cui sebbene rimanga una delle patologie che ha la maggiore possibilità di essere curata perché sono tanti chemoterapici che funzionano farmaci ormonali farmaci come inibitori di decicline che integrano l'attività degli ormonali però la ricerca diciamo con le cose più innovative non ha dato di grandi risultati quindi abbiamo pensato di lavorare in questo subset e cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una serie di centri che trattavano i pazienti con tumore della mammella che avevano un'alterazione di un gene che si chiama PI3K o P10 cioè di una pathway che va un po' in antagonismo con quello che è l'attività delle manipolazioni ormonali cioè voi sapete che tumore della mammella che esprimono recettori per gli estrogeni vengono trattati in genere con dei farmaci che bloccano l'attività del recettore ormonale o che riducono l'espressione di estrogeni nella persona per ridurre lo stimolo ormonale nella mammella però quando c'è la mutazione di PI3K questa pathway non è detto che sia quella che funziona perché PI3K può bypassare il nostro blocco però gli inibitori di PI3K che in questo caso erano degli mTOR inibitori hanno la prerogativa di indurre iperglicemia e iperinsulinemia e in un modello preclinico questo è abbastanza semplice da capire queste sono delle fettine di tumore di tumore della mammella di topi trattati con niente con solo una dieta prima di digiuno con un farmaco che blocca PI3K o quel farmaco che blocca PI3K più la dieta e voi vedete che per esempio l'insulina è molto aumentata lo zucchero è molto aumentato nel modello trattato con i mititori di PI3K tutte queste cose qua sono i fenomeni a valle dell'attivazione della pathway quindi a KT viene aumentato e viene diminuito ma se vedete la colorazione è sempre più bassa quindi vuol dire che la combinazione è più efficace del PI3K da solo e della dieta da sola questa è la proteina di sintesi a valle e anche qui c'è una riduzione netta molto più con la dieta queste sono le caspasi che sono invece degli enzimi che favoriscono la pottosi e sono aumentate come espressione nella popolazione trattata con la cosa e anche l'indice proliferativo cioè la percentuale di cellule in proliferazione si riduce nella combinazione quindi sostanzialmente associare questa iperinsulinemia indotta da questo tipo di trattamento è sicuramente un problema e per esempio una dieta potrebbe condizionarne le conseguenze noi cosa abbiamo fatto noi non era uno studio diciamo che si basava sulla somministrazione di farmaci lo studio era semplicemente quello di andare ad analizzare il plasma dei pazienti che ricevevano una terapia standard secondo quel tipo di combinazione e vedere qual era l'impatto dei metaboliti nel sangue è uno studio molto ambizioso con tanti centri 800 e passa donne sono entrate in questo tipo di osservazione con i prelevi che venivano fatti a digiuno ma non c'era un digiuno e si è visto che l'everolimus che è questo farmaco che blocca mTOR produceva un progressivo aumento di livelli di glicemia però si è visto che i livelli di glicemia sia basali cioè prima che iniziasse la cura che durante il trattamento sostanzialmente non correlavano con la prognosi cioè nel senso che i pazienti avevano sostanzialmente che fossero normoglicemici o imperglicemici sostanzialmente andavano quasi nello stesso modo quindi la glicemia non aveva questo tipo di effetto quello che è stato questa sembra complicata ma ve la posso spiegare bene quello che è stato invece dirimente è stato che pazienti diabetici che rimanevano diabetici avevano non avevano nessun aumento di rischio di una progressione precoce di malattia mentre invece questo è questo log relativo a hazard è proprio per misurare il rischio di progressione precoce di malattia in questo modello e sostanzialmente parla dei pazienti che entrano in queste corti qua rispetto a questo i pazienti che non erano diabetici o che avevano un livello di glicemia bassa che avevano un aumento della glicemia durante il trattamento invece avevano un rischio di progressione molto maggiore quindi di nuovo lo sviluppo come abbiamo visto nei trilicei di prima lo sviluppo di un diabete o di un aumento della iperglicemia in corso di trattamento indipendentemente da quelli che sono i valori basali ha un impatto significativo sulla prognose di un trattamento e questo è un dato molto interessante e infatti questa è la dimostrazione che sostanzialmente l'andamento è diverso come vedete nelle due curve qua ma pazienti con valori normali rispetto ai pazienti che hanno la capito agli altri se sviluppano un diabete sostanzialmente hanno una cosa ma quelli che hanno invece la possibilità di sviluppare di cui aumentano i livelli di glicemia capito anche se non sono diabetici vanno peggio di quelli anche diabetici che non sviluppano però un iperglicemia quindi questo è stato un insegnamento molto importante le conclusioni sono quelle cioè quindi che i pazienti che hanno glicemia normale o diabete prima del trattamento sostanzialmente e che sviluppano un trattamento durante il diabete hanno una prognosi peggiore mentre invece quelli che hanno già livelli elevati e non peggiori a livello di glicemia no e questo chiaramente sarà un'osservazione che dovremmo confermare in traia ad hoc noi abbiamo sviluppato uno studio sulla base di questa osservazione che è uno studio semplice non legato a trattamenti farmacologici per il cancro ma semplicemente su un modello una popolazione che per noi è molto frequente che è quella dei pazienti con le metastasi cerebrali i pazienti con le metastasi cerebrali sostanzialmente ricevono spesso un trattamento steroideo per contenere i sintomi e che spesso va protratto per almeno due o tre mesi e che quindi può indurre un diabete iatrogeno ecco noi abbiamo pensato di usare questa popolazione e proporre ad alcuni di questi pazienti l'associazione dell'uso di metformina al desametazone e stiamo reclutando in questo studio per vedere se effettivamente questo tipo di associazione metformina più desametazone rispetto a solo somministrazione di desametazone possa avere un'incidenza di riduzione del diabete iatrogeno ma anche dei dati clinici che possono essere correlati con la prognosi dei nostri malattini questo è il disegno dello studio per semplicità poi c'è l'ultima osservazione ed avrò finito ed è proprio quella del segnale R2 su cui stiamo cominciando a lavorare adesso non abbiamo ancora un protocollo attivo ma ci stiamo lavorando ed è questo quello che vi ho detto prima l'espressione di questo recettore che caratterizza una popolazione di tumori della mammella specifico era questa popolazione R2 più era quella che prima che definissimo i triple negative era considerata quella con la prognosi peggiore poi è stato inventato un farmaco un anticorpo che bloccava R2 quando era over espresso e la prognosi di questi pazienti si è normalizzata o addirittura è diventata migliore degli altri ma il segnale di espressione di questo come vi ho detto induce la sintesi di acidi grassi a livello intracellulare che a sua volta aumenta l'espressione del segnale questo è un po' il cartoon che ve lo dimostra cosa succede se noi blocchiamo il recettore per trattuso ma sicuramente abbiamo o comunque l'attività del DR2 abbiamo una riduzione dello stimolo alla sintesi di acidi grassi alla biosintesi de novo di acidi grassi a livello intracellulare e quindi cosa succederà? Succederà che la cellula tumorale che come vi ho detto non è facilmente ammaestrabile quindi si fa valere in tutte le sue manifestazioni purtroppo cosa fa? Può apregolare un meccanismo di trasporto a livello della superficie della membrana cellulare per incamerare lipidi che può apprendere dall'esterno quindi dal micambiente dal plasma eccetera e quindi il futuro sarà probabilmente utilizzare farmaci o che bloccano questo trasportatore che sarebbe probabilmente la cosa più utile e su questo si sta lavorando ci sono dei modelli oppure per esempio con le statine ridurre i livelli di grassi circolanti per cercare di inibire questo tipo di passaggio quindi tornando alla diapositiva che vi ho fatto all'inizio penso di avervi ho provato a convincervi che questo tipo di approccio partendo da una restrizione calorica integrandola con farmaci che interagiscono con il metabolismo in particolare noi adesso stiamo lavorando con la metformina perché è un vecchio farmaco ben tollerato facile da usare ma sicuramente ci sarà ricerca che svilupperà un sacco di altre molecole perché vi ho visto che i passaggi sono tanti e sono complessi è un approccio che va integrato con quelli che sono i targeting perché non possiamo dimenticarci che tipo di malattia abbiamo avanti e tutto quello che è stato fatto fino ad adesso è estremamente importante perché qui abbiamo cambiato la storia naturale di parecchi tumori e forse cominciamo a vedere la guarigione di qualcuno di questi ma non siamo sicuramente soddisfatti non possiamo essere soddisfatti intanto che la grande maggioranza dei nostri malati non avranno dei vantaggi e per fare questo probabilmente integrare queste informazioni con lo studio dei processi metabolici è un modo pragmatico che avrà un sviluppo futuro importante grazie spero di non avervi annoiato